Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per giovedì 27 giugno. Si affaccia sulla regione meridionale l'anticiclone africano, mentre ancora resiste sul nord Italia un po' di correnti più fresche di origine atlantica che daranno luogo a rovesce temporale, soprattutto sulle Alpi centro-orientale, sul Molise e sulla Puglia. Ovviamente con l'arrivo dell'anticiclone africano le temperature risaleranno molto al sud, al centro-nord invece temperature massime intorno a 30 gradi, al sud 32-33 gradi con punte anche di 35 gradi sulle regioni ioniche interno della Sicilia.